E' un'azienda agricola. Mi sono perso qualcosa? Nonno, ma quando non ci sarete più voi, chi lo farà questo vino? Nessuno. Vi vendo tutto. Vigneto, oliveto e frantoio. Altro che case, qui apriamo un'azienda agricola. E perché pensi che me ne importi qualcosa? Mi aspetta il Nepal. Mandami le foto. Tu ora sali in Toscana con me e mi aiuti a risolvere un po' di cose. No. No, non posso. Ma davvero hai chicchiato. Mi aspetto un'altra missione. E' la tenuta? Come pensi di risolvere? Con la massa giusta. Resta qui. Io sono libero. Dal controllo di te. Io non voglio controllare la vita di nessuno. Dovelo di te. E' la tenuta? Oh, è una tenuta? Che! Grazie.